Anche nella corte della casa di Don Sebastiano c'erano Leandro. Più che una corte, era una serie di corti, ricavate da successivi acquisti di casette e demolizioni, che alla fine uno stretto passaggio da un lato conduceva alla stalla, dall'altro si allargava in uno spiazzo detto Orticello, che sarebbe stato un giardino se Don Sebastiano avesse amato i fiori. Ma quest'uomo, che aveva creato tanti poderi, giù in Ispirosile, dalla terra robusta e percorsa da un torrente sempre di malumore, o sulla collina di Locoi, dalla terra sottile e asciutta ai piedi del Nuraghe, che era diventato nei secoli come il vaso immenso di una quercia, egli aveva creati quasi con le sue mani, perché sapeva potare e innestare le viti e gli ulivi, non capiva i fiori. Certo, quando inforcava al cavallo prima dell'alba, in modo da non far aspettare i clienti, lasciando la casa addormentata, e andava verso i suoi campi e vedeva i prati felici nella rugiada, o costeggiava le siepi innevate di biancospino, o contemplava le bacche lucenti del lentischio, e gli asfodeli eleganti tra il cistorude e il melanconico fiore di San Giovanni sentiva come un leggero struggimento, un ricordo vago, una nostalgia. Sensibile era anche agli odori, e qualche volta gli accadeva di staccare un virgulto di serpillo e metterselo nella tasca della giacca di fustagno. Ma gli odori sono più vicini al frutto dei colori. Hanno in sé qualcosa di concreto, di appropriabile, che i colori non hanno. Pure una volta, scendendo verso le aspre solitudini di Marreri, restò come soggiogato dalla visione dei fiumi di Oleandri che solcano i fianchi di tutta la valle e affluiscono verso il letto del rio principale, che è anch'esso un altro più vasto fiume di Oleandri, per scendere insieme, morbidi e voluttuosi, verso il mare. L'aurora era in cielo, ma era anche in quei fiori vermigli che uscivano dalla notte. Era sceso dal cavallo, aveva strappato un ramo e l'aveva piantato in fondo alla corte, a lato del pozzo, e il ramo aveva messo radici, era prodigiosamente cresciuto, forse perché toccava le vene dell'acqua, e in breve aveva steso come un baldacchino sul pozzo. Era una meraviglia, con tutto quel rosso sulle cose morte che si accumulavano in quell'estremo angolo, sulla poca verdura che si coltivava nell'orticello, perché la verdura in città non viene mai bene, e i figli amavano arrampicarsi sulle sue pali de braccia, grosse come tronchi. Il guaio è che l'oleandro è una pianta velenosa. Così almeno si credeva a Nuoro, e così credeva a Donna Vincenza, che con l'andare degli anni cominciò a odiare quell'unica pianta che il marito aveva messo nella sua corte per fare dispetto a lei, certamente.